Torta di ceci con pancetta e patate La torta di ceci con pancetta e patate è un piatto unico ricco e gustoso, facile da preparare ma sfizioso. Si tratta di una torta salata semplice da realizzare, un po' i come una frittata arricchita da tanti sapori e consistenze differenti. Per la sua preparazione servono pochi ingredienti ed è possibile realizzarla in pochi minuti. La torta di ceci con pancetta e patate è un piatto unico saporito che conquisterà tutti. Gli ingredienti necessari per realizzare la torta di ceci con pancetta e patate sono, ceci, patate, pancetta, prezzemolo, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Come preparare la torta di ceci con pancetta e patate Iniziare mettendo a lessare i ceci in abbondante acqua salata per circa 20 minuti. Nel frattempo, sbucciare le patate e tagliarle a dadini. In una padella antiaderente fare rosolare la pancetta a cubetti, fino a quando non sarà ben dorata. Tritare finemente il prezzemolo e unirlo alla pancetta. Scolare i ceci e passarli al passaverdure, poi unire la purea ottenuta alla padella con la pancetta e le patate e mescolare tutto bene. Aggiungere un pizzico di sale, pepe e olio extravergine di oliva e mescolare ancora. Versare il composto in una teglia e infornare a 200 gradi per circa 20 a 25 minuti. Ecco pronta la torta di ceci con pancetta e patate, un piatto unico saporito e gustoso che conquisterà tutti! E' un'altra parte di ceci con pancetta. Grazie a tutti